La nota faceva da... da in fondo faceva... Vado che ha se ti girava, uè? Minca stava a lanciare la ferramenta a me Stavo cambiando troppo, veramente? Eh, minca, stavo facendo 120 io Ma se mi segnava 105 a me? Stavo facendo 120 io Beh, in fondo è andata bene oggi la serata, minca mia a me Questo è un gran fantuzzi Che non ce ne capita mai una Minca mia a me che mi ha ragazzo a puscia qua